Con l'ultima domenica dell'estate arriva anche la seconda vittoria in campionato per i nerostellati che superano con un classico 2-0, una miternina arrivata a Lezio Ricci con l'intento di dare continuità alla propria marcia. Minuto di raccoglimento in memoria dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azzelio Ciampi, scomparso in settimana. Dura poco l'equilibrio che salta dopo appena 4 minuti quando Rossi trova spazio sulla sinistra mettendo in mezzo un pallone scagliato in rete da pacella per l'1-0 di marca pratolana. Colpita a freddo la miternina prova a riorganizzarsi ma il tentativo di reazione giallorossa si spegne sulla chiusura di Nanni. I nerostellati provano a dar continuità alla loro manovra e quando Nanni suggerisce Palombizio non trova la coordinazione per colpire al meglio. Poco dopo è Rossi a non avere miglior fortuna sull'invito della laterale di difesa Ponticelli con gli aquilani che faticano a trovare sbocchi in avanti. Sul finire della prima frazione cambio forzato per i nerostellati che devono rinunciare a Capitan Vitone rimpiazzato da Iacobucci. 1-0 all'intervallo durante il quale di Corcia opera la prima sostituzione ospite che vede l'ingresso di Cocciolone in luogo di Morra. Mentre 8 minuti più tardi è Mazzaferro che subentra a Tinari nei giallorossi colpiti ancora quando al 54esimo Isotti beffa Castellani e supera l'ex Carosa per il 2-0 che infiamma il numeroso pubblico di fedele nerostellata. I Peligni non si risparmiano e ci provano ancora con Rossi che però alza troppo di esterno sinistro. Nerostellati momentaneamente in 10 per l'infortunio di Isotti che al 61esimo lascia il posto all'Under Cicconi. La squadra di Di Marzio chiude bene gli spazi rendendosi sempre temibile in ripartenza legittimando il successo con il radente di Ponticelli disinnescato in corner da Carosa. Gli ultimi due cambi del match vedono gli ingressi di Di Ciccio per Romano e la Miternina e di Campanella per Lacciaccato Pacella e Pratolani che rischiano grosso all'81esimo ma trovano in Meo l'ultimo baluardo di una porta inviolata nei primi 270 minuti di campionato. I nerostellati non stanno a guardare e provano ancora a pungere con Rossi che non sfrutta l'assist di Ponticelli. Sull'altro versante l'incornata fuori bersaglio di Castellani e l'ultimo tentativo di una Miternina che sbanda ancora al 91esimo sulla bella ripartenza dei Peligni che con Palombizio falliscono un tris d'autore davvero a portata di mano. 4 minuti recupero e al triplice fischio finale merita gli applausi per i nerostellati che salgono a quota 7 punti. Bottino soddisfacente per la matricola del centro Abruzzo. Mercoledì turno infrasettimanale e prossima tappa Alba Adriatica. Mister Di Marzio una nerostellati che ha subito fatto capire le proprie intenzioni, gara sbloccata al quarto poi un successo legittimato nel corso della gara. Sì, hai fatto un'analisi giusta, siamo partiti subito bene contro una squadra organizzata che era venuta qui a giocarsi la partita. Sapevamo di dover partire subito per cercare di trovare quel gol che ci avrebbe consentito poi degli spazi in più e degli spazi in ampiezza e soprattutto tra le linee dove la squadra ha fatto veramente bene. I ragazzi stanno capendo come lavorare e quindi devo dire bravi tutti e continuare così. Allo di Corcia una maternina che non è riuscita a dar seguito al risultato positivo della scorsa settimana. Un 2-0 qui a Pratola che ha visto la sua squadra comunque provarci fino alla fine ma non riuscire a dare continuità anche nel costruire delle occasioni. No, abbiamo creato poco rispetto ad altre partite quindi insomma dopo aver preso il gol dopo 6 minuti Pratola ha fatto la sua partita, si è messa la partita ripartiva in contropiede e noi abbiamo trovato pochi spazi però al di là di questo non eravamo brillanti rispetto alle altre volte. Un ritorno da ex per l'ai oggi? Sì, sì, un ritorno da ex però al di là di tutto sono contento che il Pratola sta andando bene e noi speriamo a fine camminato di salvarci perché l'obiettivo nostro è questo.